Ben detto, Germania, Reinald Falls, questo qua è uno dei video che ci tengo più in assoluto a fare come fanno le strade in Germania avevo fatto un video su come riparano le buche adesso vi faccio vedere un video su come fanno le strade ok? sono venuto qui nel Reinald Falls e questa è una strada che va verso una cittadina che è più o meno è una cittadina Ludwigshafener Rhein che è più o meno paragonabile alla nostra Sesto San Giovanni dove c'è una grande fabbrica della Bas adesso vi faccio vedere bene le cose sulla riparazione l'abbiamo già fatto vedere come riparano le buche adesso vi faccio vedere la situazione ai tombini cioè quando qui in Germania fanno i tombini lo vedete? lo vedi bene qua che non c'è un millimetro di differenza i tombini adesso su questa strada qua te li faccio vedere tutti in 30-40 secondi di video prendendo la macchina allora guardate questo tombino perfetto a livello del terreno perfetto quest'altro che avevo fatto vedere prima perfetto anche questo qui c'è un passaggio pedonale guardate quest'altro qui perfetto a livello preciso del terreno beh sono tutti così cioè adesso parte che qua c'è un altro vedete? passo con la macchina non si sente neanche ok cioè lì c'era un'altra sinistra qui c'era un altro guarda qui guarda preciso track proprio al millimetro al millimetro qui c'è un altro ok ci passi sopra con l'auto praticamente non senti neanche e qui c'è qui c'era un altro e poi lì un altro e così via adesso ve li faccio vedere anche il dettaglio meglio posso vedere bene nel dettaglio lo vedi lì preciso a livello del terreno poi lì ce n'è uno e poi lì vabbè ce n'è un altro e mi sono spostato più avanti là un altro adesso mi metto in una via un attimino dove c'è meno casino così te li faccio vedere meglio come li fanno non c'è perché passano le macchine cioè lo vedi qui che non c'è neanche un millimetro di differenza lo vedi bene? anche qui veloce lo vedi anche qui? lo vedi anche qui? zero di differenza qui in Germania caro amministratore italiano caro politico caro sindaco quando fanno le strade le fanno tutte al 99,9% così ok? i tombini li fanno tutti libellati quando ci sono le buche non ho detto che non ci sono le buche le riparno e le riparano bene ok? questa situazione dei tombini livellati ok? la trovi al 99,9% mentre da noi se vado io nella mia regione o comunque in Italia la maggior parte dei tombini li trovi sotto di 10 solo nella mia regione solo nella mia regione solo nella mia zona in 30 25-30 km nell'ultimo anno anno e mezzo saranno morti almeno una decina di ragazzini in motorino che avranno avuto dai 18 ai 25 anni ok? e questo credo che sia una situazione comune in tutta l'Italia se noi le strade in Italia imparassimo a farle così come fanno in Germania ok? magari anche da noi qualche ad uno morirebbe anche di meno no?